Non tutti ci avevano fatto caso, ma quelle poche panchine che c'erano nella piazza di Faenza ora non ci sono più. Erano posizionate sotto la torre e davanti al Duomo e da un giorno all'altro sono state rimosse, lasciando gli anziani, che ne erano i maggiori fruitori, senza un posto in cui sedersi anche solo per fare due chiacchiere. Voi avete notato che non ci sono più le panchine sotto la torre? Già sì che l'abbiamo notata da tanto tempo. E quindi come si fa? Dove è andata a sedervi? Siamo in piedi, perché a metterci a sedere sui gradini non è che sia molto, non va bene. Ottimente ti metti in un bar ma devi consumare, cioè se devi fare quattro chiacchiere, comunque la faccia l'unica. Secondo lei perché le hanno tolte le panchine? Non so, non ho idea. Ma è una scomodità nel senso che era comodo avere un posticino dove sedersi? Certo, certo per l'agenzia anziana era comodissimo lì. Esatto, la di dietro erano un po' troppo nascoste, ce ne erano qui, ce ne erano lì, ce ne erano da qualche parte, che se arrivavi ti mettevi a sedere, facevi qualche chiacchiere come oggi che è il mercoledì. Adesso cosa fai? Ti fai così, o ti metti la sedere così o ti metti a sedere che consumi e stai lì due o tre minuti. Ci vorrebbe qualche panchina, io ci metterò anche il dondolo se fosse per me. Infatti qui a Faenza non c'è più posto per sedersi. Eh, come di fatti. È un po' una scomodità nel senso, perché secondo lei? Ah perché? Perché le rubano. Cioè, hanno il rivolino del fiume, le hanno cavate quasi tutte. Le staccano proprio, le smittano e poi le buttano via. Comunque voi state scomodi in piedi, insomma? Ah, io che devo camminare? Poco, però andava bene quello, mi metteva seduto. Lei cosa ne pensa del fatto che abbiano tolto le panchine da sotto la torre? No, no, mi piacevano più dove erano lì. Ma lei le usava? Sì, sì, quasi tutte le sere ci andavano. E adesso come si fa che non c'è più un posto in cui sedersi? Eh, c'è, non lo so, starò da vedere, troverò un altro posto. E c'è, c'è niente da fare, ci erano cavate. Più che altro che non sempre magari uno ha i soldi per fermarsi in un bar, per sedersi a fare due chiacchiere. Sì, la sera, metterti lì, anche il giorno, per fare due chiacchiere con gli amici, io ci andavo. Insomma, erano comode? Eh, per me era molto comode. Lei cosa ne pensa del fatto che non ci siano panchine in piazza e quelle poche che c'erano le hanno tolte? È fatto una roba che non si può, è una brutta roba. E quindi la gente adesso come fa? Eh, per adesso se non ne mettono delle nuove non c'è possibilità di mettersi sedere, sono nei bar. Anche un po' il bivacco magari sulle scalinate del Duomo con una panchina si potrebbe evitare? Sì, sì, ma io penso qualcuno si potrebbe mettere, dai, qui le hanno tolte, se ne erano due là sotto la torre, le hanno tolte anche quelle. Secondo lei perché le hanno tolte? Eh, io non glielo so dire, bisognerebbe sentire là in comune perché non lo so proprio. Francesca Diletta per Faenza Web TV